Il presidente Marsiglio si è tuffato in piscina per salutare la riapertura al pubblico delle najadi. Dopo l'open day del fine settimana l'impianto ha ufficialmente riaperto così come aveva annunciato la scorsa settimana il gestore Riccardo Fustinoni, presidente del club acquatico che si è giudicato il bando ventennale. Alla riapertura delle najadi in Viale Riviera Nord ha presenziato anche il governatore Marsiglio che dal trampolino si è tuffato in vasca. Ma le polemiche non si spengono all'annuncio per le prossime ore di una conferenza stampa del consigliere regionale democrat Antonio Blasioli, ieri mattina prima del tuffo in piscina non si è fatta attendere la risposta di Marsiglio. Se fossimo stati illuminati da Blasioli, tuona il governatore, questo impianto sarebbe stato chiuso fino a Natale. Marciva tra la ruggine, l'erba alta e gli impianti di riscaldamento che non funzionavano. Così lo abbiamo trovato quando lo hanno amministrato loro e da quella condizione lo abbiamo dovuto risollevare. Il presidente ha poi precisato che quando si fa una richiesta di accesso agli atti la legge consente 30 giorni di tempo per fornire i documenti e la regione ha sempre agito nella massima trasparenza. L'ultima gestione, prosegue ancora Marsiglio, era oggetto di un processo che dura da anni. Consegniamo finalmente le najadi ad una gestione che ha gli anni davanti per poter funzionare e festeggiamo con un bel tuffo in piscina insieme a centinaia di pescaresi abruzzesi che utilizzano queste piscine in occasione di questo lieto evento della riapertura. Dunque le najadi hanno riaperto i battenti ma le polemiche non si spengono.